Con il bimben dietro, bim bim ben, bim ben ben, bim ben ben, bim ben ben, andiamo a comandare. Buongiorno, oggi è un altro giorno, incomincia il giorno, oggi è trenta e ritorniamo di nuovo a Londra. Ci aspettano altre due ore di Pullman e oggi si vede di più strano perché è cambiato l'orario. Non so se è un'ora in più, un'ora in meno si dorme, sono carica oggi. Siamo arrivati a Londra, però prima Starbucks, no è giusto, a te? Adesso stiamo andando a Natural History Museum. Natural History Museum. Inizio di una Natal Muscle. Anche per non girare queste lecce, sono conti. Che sarebbe questo qua? Via. E niente, ma andiamo a vedere dove hanno girato il film. Ecco, mal di testa. Stiamo entrando adesso. E' il dinosauro. E questa è una stanza di un supermercato dove ti fanno provare come la sensazione di un terremoto. e' quello giapponese, penso. E' bellissimo! E' molto piano, però non è così. Questa è stata la sensazione di un terremoto. Ma vabbè, ovviamente... Sì, devi sentirti scossa o ti senti? Tu pensi di capire di compresa? Ah. Quella è la tua, magari. Quella è. E vediamo. Guarda, hai visto? Si muove sto cosa. Gravi. Ma pensavo di peggio. Che sta qua? Qua? E' qui? Un cazzo. Questi sono i daddi di mozzarella. E questo di cosa è il riso? No, questo è nel tempo come si trasformano nei piedi. Che schifo, ma questo è acqua. Pietre, braccioline e poi i sacchi. No, secondo me. Allora, facciamo mozzarella. Questa è mozzarella. Questi sono tipo chicchi per fare il sedano che stanno sui panini. Ma vuole essere il riso, la cosa più semplice. E questo è il pappello. Guarda che si illuminano. Guarda, guarda. Guarda che si illuminano là. Ah, là. Facciamolo volare. C'è anche della donna. Stiamo illuminando le ovaie. E comunque è molto figo. Sanno un sacco di cose belle. Dinosauri, pesci, uccelli. Sanno un sacco di cose fighe. Adesso stiamo andando a vedere il cambio della guardia a Bacchigan Palace. Aspettate, in casco il mokado. Fa freschetto oggi. Bene, andiamo a vedere il cambio della guardia. Qui ci sono un sacco di persone. Cioè, voi non avete idea di quante persone ci siano adesso. E adesso vediamo di trovare un posto. Se li troviamo. Siamo ragazzi. Ci sono vicini, ma c'è. Voi, siamo. Siamo. Voi. Voi, è l'isola. Voi, vuoi. Io, non sono. No, per l'isola. C'è questoò. Stiamo andando all'hard rock se lo troviamo. Allora, dove stiamo? Kandentau! Non mi inquadrare perché sono brutta. Ok. Sì, in pratica è una via piena di negozi, di mercatini. Andiamo a farci vedere? No. C'è anche Johnny Depp. Ok? Eccolo mi guarda male, è fuori italiano. E niente, mo' è una figata. Andiamo a fare qualche compere di souvenir. Senza farci uccidere però. Cioè, è bellissimo. Questa è la migliore. Allora, per chi volesse venire in questo quartiere venisse perché comunque è una figata assurda. è piena di negozi, dove puoi comprare souvenir. C'è anche un quartiere dove puoi mangiare cibi orientali, diciamo. Poi le cose per i souvenir costano pure poco e fai tanta spesa. dobbiamo fare una guida. E' verde? E' verde? E' verde? E' verde? E' il paleno? Non voglio stare già dentro? E' il tuo manila da solo. E' un po' di rinca. E' un po' di rinca. E' un po' di rinca. Il decreto. Zumba, zumba. Scusati, vado a fare più di me per i 20 secondi. Aspetta. Che sto? Sto per rifare. Che è l'oltre? Sparano queste cose. Aspetta. Fallo sulla strada. Non so che capiremo come cazzo siamo. E non la buttare su qua. E' ora? Corri. Dai, dai ora. Ma dove va? Come rischiare la vita a Londra? Si, una credita. E' bravo. Ma dai. Perché? 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 Che sta male di tutto. Sssssh. Io dico basta dai. E' verde. E' verde. E' verde. Corri. Allora, fra poco prenderemo il pulmo per andare a Portmouth e niente, abbiamo fatto shopping di souvenir, in pratica prenderemo questo autobus, il National Express, ma stiamo andando a cadere, e niente, stiamo aspettando, poi ritorneremo a casa, domani ci aspetta Halloween, bellissimo perché qua, se voi venite in questo periodo, vedete tutte le persone più strane del mondo, vestite, un tipo con le banane sulla testa, non le vedi in Italia queste cose, devi venire per forza qui, bene. Eppure stamattina quel tipo che parlava e litigava con se stesso alla formata dell'autobus? Solo qui vedi certe cose, bene, se volete venire, Londra fa per voi. Comunque addio, ci vediamo in un altro video. Ciao! Andiamo alla ricerca delle altre persone. Sono scomparso, sono là. Ciao, finita. Ciao belli, ciao! Ciao!